... Sandro, un weekend buono direi, visto che non sapevi neanche dove era la leva del cambio a un certo punto quando sei ritornato sul carto. Sono contentissimo, premetto una cosa è che sono qua per sviluppare i materiali. Una volta partito l'Amers ho dovuto fare questa cosa per non rimanere indietro con lo sviluppo dei mezzi. Sono molto contento, la settimana è molto positiva, tornerò a casa con le idee molto chiare e penso che ci prepareremo molto bene per la settimana della WSK Euro. Nonostante questo però alla fine un pilota è pilota, cerca la prestazione perché a te non te ne frega di fare un decimino più piano, preferiresti fare un decimino più veloce. E vediamo che comunque a livello di crono si guardiamo in squadra. ...di due decimi dei migliori, quindi per me è un grande risultato. So di essere al 50% sia come condizione fisica, perché ormai sono anni che non mi alleno più a certi ritmi, sicuramente anche a livello tecnico perché abbiamo improvvisato tutto settimana scorsa. Però diciamo, sono molto contento perché oggi ho fatto le due manche, la finale fisicamente sto benissimo, ho avuto un buon passo in gara. All'ultimo giro ho ripetuto ancora un ottimo tempo, i miei meccanici mi dicevano che ero all'ordine di due decimi dai primi, quindi per me è molto buono. ... ... ... ... ... ...